questo è il momento della giornata che preferisco tutti rilassati e ne sta dormendo dopo la cena io e che ne approfittiamo per metterci comodi comodi sul divano e guardare i nostri film preferiti gli amici di sky ci hanno anticipato perché mi hanno mandato questa box con tutto l'occorrente per una serata speciale cinema a casa una copertina che non può mai mancare la tazza per la tisana e può correre a volontà sky cinema porta il cinema a casa tua infatti offre un'ampia selezione di film internazionali italiani usciti anche da poco al cinema per gustarli comodi sul divano con la propria famiglia allora c'è da dire che io e rica abbiamo dei gusti abbastanza diversi quindi non è facile scegliere il film da guardare ogni sera ma siamo giunti alla conclusione che facciamo un giorno per uno poi con la con l'ampia scelta di sky cinema siamo accontentati tutti e due sicuramente me lo sono già segnato un film che vorrò vedere che in programmazione è di una di cui ho sentito parlare molto bene e quindi niente non ci resta che rilassarci pocorne sono pronti e amore tocca a me scegliere il film stasera è